Se c'è una cosa che fa dormire sonni tranquilli tutti i fisici del mondo è la cosiddetta legge di conservazione dell'energia. Recita il mantra, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi se prendo una scatola vuota e ci faccio passare attraverso dell'energia, la quantità di energia uscita dalla scatola sarà uguale alla quantità di energia entrata nella scatola. Magari nel mentre si sarà anche trasformata o non tutta l'energia uscita sarà riutilizzabile ma di fatto tutta l'energia entrata dovrà uscire. E questo è vero sempre ed è il bello della legge di conservazione dell'energia. Se non fosse che c'è un'eccezione e non è un'eccezione da poco perché questa eccezione è l'universo stesso. E sì ho appena detto che l'energia dell'universo non si conserva ma prima di tacciarmi di complottismo facciamo un ragionamento insieme. A tutti i nostri fini l'universo è come se fosse un panettone con canditi, uvetta e ovviamente l'impasto che tra l'altro siamo anche sotto Natale. Se prendo il panettone crudo e lo metto nel forno, il panettone si gonfierà, i canditi si muoveranno l'uno dall'altro, si allontaneranno anche se loro non hanno una vera e propria velocità. Ma il numero di canditi del panettone sarà comunque sempre lo stesso e quindi si associa un'energia a ciascun singolo candito, l'energia di tutti i canditi, quindi di tutte le particelle di materia ordinaria, sarà sempre la stessa, sarà sempre costante. Possiamo dire la stessa cosa per la materia oscura che nel nostro caso sarà l'ovetta. Per la luce il discorso è un po' diverso. Nel nostro esempio la luce sarebbe l'impasto del panettone, ma quando in forno il panettone, il panettone si gonfia e quindi l'impasto si stira, si allunga. La stessa cosa fa la luce nell'universo, risente dell'espansione dell'universo e quindi si stira, si allunga. Ma visto che l'energia della luce dipende dalla lunghezza d'onda della luce stessa, con l'espansione dell'universo la lunghezza d'onda aumenta e l'energia diminuisce. Purtroppo nel nostro panettone non abbiamo un analogo dell'energia oscura, ma l'energia oscura è addirittura più esotica perché è come se con l'espansione del panettone l'energia oscura aumentasse, ma l'aumento dell'energia oscura non compensa la diminuzione dell'energia dovuta alla luce. Quindi in totale l'energia dell'universo non si conserva. Potremmo pensare che questo sia un problema, ma in realtà non è così. Questo perché quando descriviamo l'espansione dell'universo dobbiamo in realtà considerare la cosiddetta legge di conservazione del tensore energia impulso, che mi rendo conto non ha un nome così accattivante come legge di conservazione dell'energia, ma questo è. In realtà la legge di conservazione dell'energia è un caso particolare della legge di conservazione del tensore energia impulso. Quando l'universo non si espande l'energia si conserva, mentre quando l'universo si espande l'energia non si conserva più. Ovviamente quando facciamo degli esperimenti sui laboratori qui sulla Terra noi non ci accorgiamo dell'espansione dell'universo. Questa avviene su grandezze scala troppo grandi e su tempi troppo lunghi. Di conseguenza a tutti gli effetti quando facciamo esperimenti sulla Terra l'energia di fatto si conserva. Di conseguenza abbiamo appena imparato tre cose. Uno, che l'energia si conserva. Due, che l'energia non si conserva quando l'universo si espande. E numero tre, che il panettone è superiore al pandoro, almeno per spiegare concetti fisici.